Allora, primo classificato, la moto con maggiore anzianità anagrafica, il signor Desi Pierino, Desi Pierino, Desi Pierino. Allora, prima di consegnare la targa diciamo che il signore ha portato una GTV 500 del 1935, quindi ecco, facendo i calcoli quanti anni ha? 75 anni, 74? Ok. Allora, siamo quasi all'epilogo. Il premio al gruppo partecipante è più numeroso. Allora, numero 14 iscritti, Aguile Millenarie e San Benedetto, per favore, qualche rappresentante? Aguile Millenarie, gruppo più numeroso. Vai, vai, Enrico, Tonino, vai, vai, Tonino. O Tonino o Enrico. Vai, Tonino, vai, vai. Non siete Aguile Millenarie? Un uomo di peso. Avete cambiato? Vai, Tonino, vai, ecco, ecco. Generale, generale. La faccia se la io, tengo un'andre Aguile che io. Vai, Tonino, vai. Perché non è l'Aquila? Perché non è l'Aquila? È l'Aquila e termine. La faccia se la io, ma non è l'Aquila. Non è l'Aquila che si rompa la tavoletta. È l'Aquila? Non siete? Tonino al quadrato. Al quadrato. Grazie Allora, diciamo l'ultimo premio, al conducente con la maggiore esperienza mototuristica Volevamo premiare Arduino Carabucci, che però oggi ha dato un attimo forfè Ma noi la diamo lo stesso e i prossimi giorni qualcuno si incaricherà di portargliela Quindi lo stesso, un applauso per Arduino, anche se non è venuto, ma è con noi a bordo